La perdonanza ci riprova. Sarà così ripresentata la candidatura della perdonanza come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Sarà presentato un nuovo documento basato ancora una volta sul valore della solidarietà sociale dei popoli che la perdonanza rappresenta. Nel documento si spiegheranno meglio anche gli altri dettagli e gli altri valori incarnati dalla perdonanza celestiniana. A supportare il progetto il professor Francesco Sabatini, il presidente merito dell'Accademia della Crusca, da sempre vicino all'Aquila e alle sue tradizioni. Per presentare di nuovo la candidatura il comitato si è appellato a tutte le istituzioni italiane a partire dal presidente della Repubblica. La candidatura della perdonanza come patrimonio immateriale dell'UNESCO è infatti una questione nazionale. Abbiamo fatto conto di quelli che sono stati i pretesti perché tali bisogna considerarli per fermare all'ultimo momento nella prima operazione. E quindi tecnicamente i documenti, gli approfondimenti, di nuovo le adesioni delle istituzioni anche estere. A livello della responsabilità politica abbiamo fatto pervenire i tre ministeri che poi sono quelli che devono decidere all'unanimità questa candidatura, cioè beni culturali, ministero degli esteri e ministero dell'agricoltura che è entrato in queste decisioni da qualche anno, che c'era stato certamente un equivoco, un'incomprensione, una disattenzione meglio verso il valore di questo patrimonio che aveva ricevuto il consenso di molti rappresentanti esteri anche di paesi di diversa fede religiosa. Quindi non c'è nessun intralcio di quel tipo. E ora ci prepariamo a fornire questa documentazione nuova alla riunione del gruppo italiano che deve riproporla a Parigi. E avverrà entro la fine di marzo questa ripresentazione.